Ma alla fine uno ha avuto la meglio, ah no, aspetta, qual è la bet? Bottola per tutti, anche Snake Possiamo spaccare i vari muri, oh, salve Madonna, che palle che è sta cazzo di mappa, dammi il CES, grazie Ma l'agilità si è parte da 200 all'ora La cosa del buono del demo in sta mappa è che si potrebbe trasportare fra i vari piani almeno Ma dove sono il punto che mi sono fatto tutta la mappa E non li ho sentiti Il demo è un 4.6 Ma erano al centro, ecco perché non li ho sentiti Ma non erano al centro, lo sto dicendo Prego per save the best che Lo vorrei proccare Ma non riuscirò Invece sì E che l'agilità ed era partito molto avvantaggiato Il problema è che sto gioco secondo me i Kilo sono veramente lenti alcune volte Non sembra che abbiano la velocità che dovrebbero avere Dai mi stavo tippando, vaffanculo Bastardi Non chiudo il mio portale Sto attrappando giù Sotto di qua Facciamo che salgo Merito il po' la look No no È molto Molto spesso sembra di essere molto più lenti di quello che dovrebbe essere Ma perché è il gioco che è fatto così Nel senso in realtà il killer è lento Non è troppo Dovrebbe essere secondo me molto più veloce però Ottimo Vabbè snake Ombriaco Ok Sono tolati di qua Più che altro sai cosa? Perché non mi sta dando il chase adesso? Capito? Questa è l'unica cosa che io chiedo Mi vuoi tenere lento? Ok Perché a questa distanza non mi dai il chase? Cioè potrei tranquillamente prendermi il chase Quindi iniziare a staccare il bloodlust E invece no Non me lo fa fare Guarda quanto bisogna essere vicini Guarda non me lo dai Ciao Paige Buonasera cara Benvenuta Come stai? Cosa ti serve il chase? Dopo un po' ti dà il bloodlust Ogni volta che ti dà il bloodlust Ti dà velocità Bene anche se sono un po' agitata Com'è che è successo? Mi metto mai lento Quello no certo Però Madonna che spavento Mi son visto una faccia di un Di un coso davanti Mi ha fatto veramente scagare sotto Ma è tornato indietro? Mi sa di se era tornato No non era tornato indietro Ok Messo Lavoro? Per il lavoro domani peggio No lei non la devo hittare Meno male che non l'ho hittata Quel cazzo che ti hitto Ok Questo instant save è stato molto risky Va bene il gioco Balance landing Il snake Ah ok Ci sta Ma sento Non ti preoccupare Speriamo Speriamo snake La botola Chi lo so Domani è la giornata 8.17 E penso che tutta la settimana così Non ho tolto quello In realtà non mi cambia niente quel portale Come essere la possibilità di tornare semplicemente sopra velocemente Alcuni dei portali li ho messi semplicemente per necessità di dove stavo in quell'istante Cosa stare credendo? Ok andiamo lì allora Esattamente Immaginavo Grazie Una stack di save the best Nexi sono col demo Ah tra l'altro devo rivedere una clip che mi avevate fatto e che mi aveva flesciato mentre guardavo indietro Vantaggioso? Beh ok E' onesto Tornato giù è tornato ok Ma che fai? Ma che cazzo stai facendo? Com'è l'inizio conoscere il killer dalle mani? Adesso riusciamo a Comunque è bello come passi da un portale all'altro Ma tecnicamente non c'è modo per salire Neanche tu hai capito? Neanche io ballo Non so cosa sia successo Dammi il chase Oh cazzo Veramente fastidioso sta roba della chase mechanics Oh cazzo Oh cazzo De gustibus, I guess Ma forse la decisive L'unica cosa che mi fa pensare È che deve essere decisive Ma Fermi, terra, fermi, terra Non ho capito cosa stanno facendo Minou, basta, dai No, ma sono bravi questi Scommesse sul fatto che non trovo io la botola Ciao Marco, buonasera caro, benvenuto Dai Non ci credo La trova lei Perché è da quel lato lì No, è qua Ma non c'è neanche le orecchie Cioè non comprendo Mi sei passato di fianco Lei sentite, cazzo, la botola Vabbè Gita No Sì, lo so Ma non mi piace Sai tu, sai L'ho provato Non mi piace proprio per niente quel gioco Ciao Questa comunque Tra parentesi Sì, ciao No, ma l'ho proprio provato Midnight Ghost Hunt Non mi piace proprio per niente Proprio le meccaniche Non mi è piaciuto proprio con giocarla Finalmente mi sto rilassando che bello Dai, le sciocche Ah, cavallo, si, the best for last È utile per picchiare più velocemente la gente Con l'uncino, change my mind Oh, what the fuck Mi ha alzato lo sguardo a caso Ma poi chi è che me l'ha alzato? Cioè, me l'ha alzato al 180 Ne ho la mano sul coso Ciao, Deirdre, buona nata Grazie di essere passato Ho fatto qualche partita una serataccia? Vabbè, dai, tranquillo Ti puoi rifare domani, Deirdre Buonanotte, caro Sto a 8.000 punti Eh, sì, aveva speranza Era chiaro come loro Aveva speranza Grazie a tutti